Buonasera a tutte e tutti, sia quelli in presenza che quelli che ci ascolteranno successivamente sul canale YouTube. Per la serie delle conversazioni sulla transizione energetica, organizzate da Federico Valerio per l'Ecoistituto di Reggio Mila Genova, abbiamo oggi a parlare con noi Luciano Celi. Luciano Celi è una persona con una grossa competenza sull'argomento specifico di oggi, cioè la transizione energetica. Ha una laurea in filosofia della scienza conseguita a Pisa, poi ha un master in giornalismo scientifico presso la Sissa di Trieste, ha un ulteriore secondo master in tecnologie internet e informatiche presso il CNR, si occupa di energia e di transizione verso le fonti rinnovabili e ha conseguito un dottorato in ingegneria energetica presso l'ingegneria di Trento, in cui nella sua tesi ha analizzato la capacità estrattiva delle compagnie petrolifere. È un argomento che spero che riesca a toccare anche nella presentazione, perché l'argomento è l'eroei, il ritorno energetico di una fonte energetica. È un tipo di informazione che solitamente è praticamente impossibile riuscire a trovare in chiaro. Quindi veramente va applaudito questo sforzo che lui e i suoi collaboratori hanno fatto per cercare di mettere in chiaro come sia la situazione reale. Luciano lavora presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove si occupa di divulgazione scientifica per tutta l'area di ricerca di Pisa. La conversazione sarà guidata da Federico Valerio, che è uno dei fondatori dell'Ecoistituto Reggio Emilia Genova, un dottore in chimica, è stato il direttore del Dipartimento di Analisi dell'IST, Istituto Tumori di Genova. È un ambientalista di un lunga pezza, forse una delle persone più conosciute anche all'estero di Ecoistituto. A questo punto io vorrei soltanto ricordare alle persone che sono in ascolto adesso che questa conversazione sarà appunto tra Luciano e Federico e chi volesse chiedere dichiarimenti, ebbene lo faccia utilizzando la chat. Quindi può scrivere le domande in chat che poi verranno analizzate e lette al termine della discussione. E poi se chi volesse ulteriormente intervenire di persona può fare, alzare la manina e al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato proprio alla risposta delle domande sottolineate. Quindi senza frappore indugi lascio la parola a Luciano e Federico. Bene, io intanto ringrazio ovviamente Marco per questo invito e per la lusinghiera presentazione che ha fatto di me. Insomma, mi stupisce sempre un po' perché io mi sembra essere uno che sa pochissimo di tutto, mentre ci sono persone che sanno tantissimo di poche cose. E quindi insomma, in realtà ecco, io mi sono appassionato a questi temi. Nel momento in cui ho incontrato un collega di lavoro, sostanzialmente qui al CNR, che si chiamava Luca Pardi, e grazie a lui poi ho fatto un, sostanzialmente un dottorato, tra l'altro è un chimico anche Luca Pardi, ho fatto un dottorato con un altro chimico che è il professor Claudio della Volpe dell'Università di Trento, proprio sui temi legati a questo discorso delle risorse e dell'esaurimento delle fonti fossili, come dire, allarme verso l'idea di transire verso fonti alternative, al netto poi di tutti i problemi che questa cosa comporta dell'uso delle fossili, quindi di tutto il problema climatico che ben conosciamo, insomma. Ma se andiamo a vedere poi il problema climatico è, come si dice, la punta dell'iceberg, di cui, come dire, otto decimi o nove decimi sono sott'acqua, quindi insomma il problema è ben più grosso di quello che si vede. Detto questo, io passerei alla, vorrei fare appunto una presentazione, che spero non sia troppo, insomma non entro troppo nel dettaglio delle cose che abbiamo fatto come ASPA, io sono nel frattempo appunto membro di questa associazione internazionale che ha declinazioni nazionali ovviamente, che si chiama Associazione per lo studio del picco del petrolio, proprio perché appunto nella sensibilità di molti studiosi, di molti ricercatori, c'è questa idea di capire quando c'è stato il picco delle fonti fossili, in particolare del petrolio, che è la fonte principale con il quale il mondo viene alimentato, e poi vedremo uno slide in merito, e soprattutto di capire appunto quando questa risorsa esaurirà, si esaurirà, come si esaurirà, e se questa, come dire, preziosissima fonte riuscirà a darci la possibilità di transire appunto, perché se vogliamo fare una transizione, quel mondo va costruito e andrà costruito con l'energia che abbiamo a disposizione, che è comunque per adesso ancora energia fossile. Passo alla presentazione. Scenari rinnovabili, ho messo una specie di piccolo sottotitolo, guardare il mondo con gli occhiali dell'energia, perché il problema che spesso, io, quel che ho visto anche come nel mio, diciamo, ruolo, nel mio cappello di divulgatore scientifico, eccetera, è che manca proprio una sensibilità verso l'energia. L'energia ha un grosso difetto, non si vede, come dire, non si può manipolare, ha delle unità di misura strane, la gente fa confusione, i kilowatt, i kilowattora, i watt, non si capisce bene, i joules, insomma, e quindi tutto questo crea una grande confusione e mette in difficoltà le persone, che però, persone che, come noi tutti, pigiano un pulsante e la luce si accende magicamente, quindi, vuol dire che, insomma, le cose funzionano e noi continuiamo a utilizzare questa energia senza pensarci, non ne sappiamo l'origine, spesso non abbiamo idea di come viene prodotta o comunque, insomma, abbiamo vaghe, vaghe, come dire, cognizioni sulla questione. Parto da questa, raccontando questa storia, in particolare, con una persona che, in qualche modo, si era già in tempi non sospetti, potremmo davvero dirlo, posto il problema, cioè dire, ma come facciamo a immaginare di far sì che le persone possano visualizzare questo grosso, questa grossa e importantissima cosa che ci permette di vivere, che è l'energia. E questo signore che si chiama Richard Beckminster Fuller, che è stato una sorta di inventore mezzogeneo per certi aspetti, perché era un architetto, però era un inventore, ha fatto un sacco di cose interessanti, anche ha fatto questa cosa che è dietro alle sue spalle che si chiama Cupola Geodetica, e gli è stata dedicata, tra l'altro, visto che Federico Valerio è un chimico, il Fullerene. Il Fullerene prende il nome da Fuller, da questo signore qua. E il Fullerene, se non mi ricordo male, sono, mi sembra, 12 o un certo numero di atomi di carbone. 60. Sono 60, ecco, non mi ricordavo il numero esatto, però, insomma, costruiscono questa struttura perfetta, fondamentalmente, e quindi il nome di Fuller è entrato, diciamo, nella storia anche della chimica grazie a questa cosa. E Fuller dice, ma come facciamo, appunto, a immaginare, a far rendere conto alle persone che c'è tutta questa energia a disposizione, che noi viviamo in un mondo pieno di energia? dice, potremmo immaginare di avere degli schiavi energetici, cioè di immaginare che le persone, una persona, sviluppano una certa energia, no? La sviluppa, e la sviluppa ovviamente in certe modalità. È chiaro che se una persona fa uno sforzo istantaneo, quasi istantaneo, riesce a fare anche 700-800 watt, perché salva la rampa di scale, perché fa un sollevatore di pesi, per esempio, fa in un istante una certa energia. Ma se noi prendiamo una persona che gli si fa fare una cosa che dura un tot di ore, deve ovviamente rallentare il suo ritmo e portarla avanti per 8 ore. Quindi una persona, diciamo, mediamente fa 50 watt, diciamo, per 8 ore, più o meno. Watt più watt meno, insomma, ecco. Possiamo identificare una persona come una lampadina, fondamentalmente. Una persona che si mette a pedalare, diciamo, accende una lampadina. Quindi Fuller diceva bene, allora, vediamo il mondo di quale energia ha bisogno. Una televisione ha bisogno di 100 watt, quindi vuol dire che le persone devono sostanzialmente pedalare almeno per un'ora e mezza se vogliono vedere, che ne so, un film o una partita di calcio che dura appunto più o meno quella durata lì. Quindi dobbiamo immaginare due persone sulla ciclette che ci permettono di tenere accesa la televisione. una lavatrice fa addirittura 750 watt, quindi servono addirittura 15 persone e che in funzione del programma che usiamo per la lavatrice, se è un programma rapido, un programma di lavaggio un pochino più lungo, devono pedalare o due o anche tre ore. Quindi, insomma, non proprio banale. fino ad arrivare a esempi estremi che però sono estremi se pensati in questi termini, ma sono il quotidiano per molti di noi, cioè prendere un treno, un treno, una freccia rossa, ormai che si vedono come se fossero come dire, la cosa più normale del mondo sulle nostre linee ferroviarie, quando è alla massima velocità sviluppa 9,8 megawatt, quindi vuol dire diviso sempre i famosi 50 watt, 196.000 pedalatori, cioè persone che 196.000 si mettono a spingere un treno, di fatto, insomma, no? Ecco, il concetto è un po' è un po' questo, senza arrivare agli aeroplani, a cose di questo genere, insomma, ecco. Quindi, c'è anche una specie di piccola provocazione che volevo scrivere in questa slide, che è, allora, quanto costerebbe questa energia? Un frecciarossa ha una capienza di, io sono andato a vedere i dati, più o meno 570 posti. Allora, ammettiamo che lo riempiamo a tappo, no? tutti i posti a sedere, tutto il terreno completo. Ci sarebbero, quindi, diviso appunto per il numero di pedalatori, 343 schiavi energetici a testa per ogni persona che è seduta su quel frecciarossa che vada a Milano a Bologna o viceversa o a qualunque altra tratta d'Italia. Ecco, benissimo. Glieli vogliamo dare 10 euro per aver pedalato un'oretta? Quindi, un biglietto Milano-Bologna costerebbe niente meno che 3430 euro insomma, Anziché magari 30. Quindi, c'è anche un discorso di costo dell'energia che spesso noi sottovalutiamo perché ci sembra tutto facile, tutto realizzato così velocemente come se niente fosse. Quindi, niente, scusate, questo sta andando avanti per i fatti suoi, io devo andare indietro, ecco questo qua, perfetto. Ecco, un altro esempio molto bello di un libro che in qualche modo come dicevo prima Valerio è una piccola attività editoriale che ho pubblicato recentemente cioè in tempi si ritrovano intericenti è questo esempio che fa Greer, no? Lui dice prendiamo una cosa semplice con una tazzina di caffè cioè l'energia necessaria per la caffettiera che è solo la porzione minima ovviamente la porzione finale prima di arrivare al caffè che però è la fine della somma e dice a meno che il caffè non provenga da una coltivazione biologica per far crescere i chicchi vengono utilizzati i fertilizzanti e i pesticidi chimici che ovviamente derivano dal petrolio i macchinari agricoli vanno a gasolio e i macchinari agricoli che raccogliono i camion e le navi e i treni tutti quegli strumenti che ci permettono di portare diciamo dalla piantagione del caffè il caffè fino a noi vanno a petrolio o comunque derivati del petrolio fino appunto dal produttore l'intermediario insomma il consumatore fermandosi lungo i vari stadi e i vari impianti di stoccaggio che possono essere riscaldati e raffreddati in impianti industriali che tutti alimentati sostanzialmente da combustibili fossili quindi i consumatori del mondo industriale guidano poi quando il caffè è arrivato al supermercato guidano fino al supermercato lungo strade asfaltate con il petrolio con derivati del petrolio il supermercato abbagliato qui giustamente Grieca al campo la mano dice abbagliato da luci e comfort perché giustamente guarda Viga fa la stascomo delle persone che vanno a comprarsi il caffè certamente climatizzato per portarsi a casa in volo quelle di plastica pieni di caffè la plastica fatta ovviamente col petrolio e dice giustamente Grieca cioè la conclusione di questo ragionamento che Grieca fa è per bere il caffè a tazzine consumiamo il petrolio a barili anche questa è una piccola provocazione ma che ci fa rendere conto entro certi limiti di quale sia l'entità di cui noi abbiamo di cui noi disponiamo come individui del mondo occidentale soprattutto cioè noi dobbiamo immaginare immaginiamo io faccio sempre questo esempio soprattutto per i ragazzi delle scuole dico ma voi immaginate l'uomo più potente prima della rivoluzione industriale diciamo Napoleone Napoleone buona parte era insomma era sostanzialmente un imperatore l'imperatore di mezzo mondo e grazie a questa sua capacità poteva disporre di un sacco di cose ma non poteva disporre di energia cioè l'energia che lui aveva era uguale a quella di qualunque altra persona perché la massima per esempio disponibilità che aveva era quella di mandare degli emissari a cavallo che andavano da un posto all'altro magari facendo tappe facendo cose eccetera un po' l'equivalente di quello che potevano fare le altre persone al giorno d'oggi il più diciamo tra virgolette povero di noi può tranquillamente prenotare un viaggio e andarsene che ne so in Giappone o dall'altra parte del mondo senza grossi problemi questa è la differenza tra noi e l'uomo più potente del mondo di 300 anni fa di prima della rivoluzione industriale di queste cose bisogna tener conto quando si fanno questi ragionamenti perché noi siamo in questo mare in questo oceano di energia e non ce ne rendiamo conto questo è uno slide che faccio vedere ogni tanto e che mette a confronto lo sviluppo della popolazione mondiale in funzione dell'energia pro capite a disposizione degli esseri umani quindi il mondo si sviluppa il mondo si crea si realizza perché c'è l'energia sostanzialmente quindi mediamente abbiamo un incremento soprattutto dal 1850 in poi dal 1900 appunto con la scoperta dei combustibili fossili prima il carbone poi il petrolio c'è questa impennata come vedete che è anche un'impennata della popolazione quindi le condizioni migliorano e migliorano grazie alla disponibilità energetica ecco cos'è l'eroe? si parlava appunto si accennava prima a questa cosa è un indice su cui ho lavorato quando poi ho fatto un po' il dottorato ho fatto altri lavori eccetera è un indice che si spiega abbastanza bene io faccio l'esempio anche qui c'è un piccolo libro che avevo pubblicato di Charlie Hall che poi è la persona che ha sostanzialmente inventato il concetto di eroi o almeno l'ha traslato nel settore dell'energia perché è un concetto molto trasversale in realtà perché misura molte cose lo vedremo poi nella slide successiva l'eroe o l'eroe che appunto è l'acronimo di Energy Returnal Investment il ritorno energetico sull'investimento energetico ovviamente e io faccio l'esempio con l'albero di mele che è una cosa che capiscono tutti se io ho un albero carico di mele la mela più semplice che mi viene da raccogliere è quella che ho portata di mano perché ovviamente è quella per la quale devo fare meno sforzo quindi ho il massimo ritorno energetico sforzo minimo mangio la mela l'equivalente energetico di quella mela e quindi se io però voglio cominciare a raccogliere un po' tutte le mele all'inizio faticherò poco ma poi se voglio arrivare a raccogliere l'ultima mela lo sforzo sarà massimo sarà massimo lo sforzo e avrò e magari dovrò prendere anche una scala quindi dovrò avere un dispositivo tecnologico che mi possa permettere di arrivare all'ultima mela infatti il libro si intitola cogliere l'ultima mela un po' sullo stile di Branduardi non cogliere la prima mela ma cogliere l'ultima dove appunto per arrivare a cogliere tutte fino all'ultima l'ultima è quella che richiede più sforzo di tutti sostanzialmente ed è quella che ha questo indice più basso di tutti perché è quello è l'indice come dire che ci richiede più energia in funzione della stessa mela perché la mela diciamo ipoteticamente può avere lo stesso contenuto energetico più o meno però quella che dobbiamo andare a raccogliere per ultima è quella che ci fa impiegare più energia di tutte la stessa cosa vale per il petrolio per le fonti fossili in generale no? cioè se noi abbiamo delle fonti che piano piano si vanno esaurendo questo eroei questo eroei diminuirà sostanzialmente il concetto è questo qua cioè mentre all'inizio del novecento in Pennsylvania bastava trivellare con una con un cavaturaccio lì quasi e spillava fuori petrolio quasi un secolo dopo ci tocca andare con la Deepwater Horizon che è una piattaforma enorme che entra nel mare per 3.000 metri 4.000 metri 5.000 metri per andare a prendere il petrolio quindi c'è tutto un dispositivo tecnologico molto più avanzato molto più la famosa scala equivalente della scala nell'albero di mele molto più complesso che ci fa avere un eroei decisamente inferiore ecco questo era il concetto vabbè qui parlo un po' concettualmente volevo dire cosa era più o meno il problema dei confini dove mettiamo la scala nel conto non ce la mettiamo questo ci importa diciamo meno quello che ci importa è vedere di questo grafico e vedere quanto ancora al giorno d'oggi perché questi dati sono della PP Statistical Review del 2022 quindi sostanzialmente abbastanza aggiornati quanto ancora in realtà abbiamo le tre fette grosse quella grigia quella arancione e quella blu che vedete sono rispettivamente appunto petrolio gas naturale e carbone la somma di queste tre è oltre l'80% di ciò che viene richiesto come energia primaria nel mondo praticamente oggi quindi ancora oggi nonostante i problemi climatici nonostante tutto il mondo va avanti a combustibili fossili e questo è il grosso problema del grosso tranello la grossa trappola nella quale siamo caduti un po' tutti alla fine perché io sono nel cuore a una signorina che si chiama Greta Thunberg quando dice stop fossil fuel now basta non dobbiamo smettere di bruciare io sono il primo a dire però vuol dire che fermiamo il mondo ce lo spegniamo letteralmente cioè è un po' quello che è successo con il lockdown con il discorso della pandemia abbiamo visto che tutto era fermo allora a quel punto lì respiri però hai bloccato hai congelato tutte le attività umane sostanzialmente quindi è per questo che dobbiamo fare una transizione una transizione che ci porta c'è un transitorio appunto che ci porta dal punto A al punto B il punto A è quello in cui siamo adesso più o meno e il punto B sarà quello in cui tutta questa grossa fetta in questo grafico sarà decisamente inferiore per non dire nulla speriamo che si arrivi al nulla finisco il ragionamento sull'eroe per dire che appunto una delle cose che Charlie Hall ha scritto in tempi relativamente recenti insomma si parla di 2017 in realtà non recentissimo ma è un bell'articolo che fa vedere come questo concetto di eroi sia molto trasversale si applica alle mene si applica al petrolio ma si applica anche ai cacciatori raccoglitori quindi quando dico guardare gli occhi col mondo dell'energia dico anche questo cioè lui dice va bene allora ci sono questo gruppo ancora oggi di cacciatori raccoglitori nel deserto del Calari che si trova se non ricordo male dovrebbe essere una parte del deserto non me lo ricordo esattamente dove sia non vorrei dirlo Namibia credo sì mi ricordo che era in Africa però non mi ricordo esattamente comunque sostanzialmente lui dice queste popolazioni cosa fanno cacciano in una certa zona raccolgono quello che riescono a raccogliere in quella zona come come cibo eccetera eccetera però il problema qual è che loro mentre cacciano in quella zona gli animali che non sono stupidi si allontanano da quella zona quindi loro per andare a cacciare devono fare sempre più strada cioè loro hanno un insediamento diciamo locale si mettono in un certo punto poi cacciano l'intorno poi dovranno cacciare sempre più lontano è un po' come il discorso delle mele devono andare sempre un po' più lontano a prendere da mangiare e fino a quando andranno lontano? andranno lontano fino a quando il loro eroei il loro eroei della comunità sostanzialmente sarà tanto alto da permettere questa cosa a un certo punto questa cosa non è più sostenibile perché ci mettono in più ad andare a cacciare a prendere le cose da mangiare per il villaggio e tornare indietro e questa cosa qui sarà talmente onerosa dal punto di vista energetico che loro decidono di mollare tutto cioè quindi tolgono le tende e vanno dall'altra parte quindi sono nomadi nomadi stanziali stanno in un posto per un certo periodo e poi si spostano da una zona all'altra quindi il concetto è sostanzialmente un po' questo quindi l'euroe quando diventa troppo basso diciamo lui poi all in questo articolo fa anche dei conti insomma quando diventa a un certo punto troppo basso loro si spostano quindi ecco questo è anche un altro modo per far capire come questo indice questo indice molto semplice che è un numero puro tra l'altro perché è energia su energia in realtà come dire sia sintomatico di come funziona il mondo alla fine di quali siano i meccanismi di spiegazione del mondo in un altro lavoro un po' più vecchio del 2012 addirittura loro arrivano a fare una piramide all'interno per quanto riguarda invece la società nostra la società industriale e dice allora a bassi livelli di eroi di eroei 1.1 1.2 tu riesci a estrarre e a raffinare il petrolio più l'eroe aumenta più riesci a salire nella piramide ovviamente fino ad arrivare al livello massimo cioè il fatto che noi siamo qui a chiacchierare amabilmente e a disquisire e a fare ragionamenti su queste cose tra l'altro stando a distanza e consumando un certo numero di energie perché abbiamo dei computer accesi abbiamo impianti di climatizzazione raffrescamento nelle case di ognuno di noi eccetera eccetera è perché siamo un po' nell'ultimo triangolino in alto di questa piramide sostanzialmente quindi noi siamo sostanzialmente dove c'è scritto hearts praticamente healthcare hearts dove hai diciamo un eroi un eroei alternativamente questi due nomi perché in letteratura si trovano tutti e due cioè si trova eroei e si trova eroi diciamo l'uso più consolidato in tempi recenti è eroi però molto spesso in lavori in pubblicazioni vecchie si trova eroi quindi diciamo l'eroi quando è più alto permette di arrivare appunto alle arti ad avere un mondo in cui si no c'è l'istruzione c'è il mondo che conosciamo sostanzialmente il mondo tra virgolette civilizzato insomma quando abbiamo un eroei superiore 14 15 appunto appunto questo era un cappello diciamo introduttivo per introdurre invece quello che poi noi abbiamo fatto diciamo come ASPO in tempi più più recenti ci siamo posti diciamo l'obiettivo di vedere appunto questa associazione se noi volessimo veramente fare appunto una transizione come Italia come paese Italia come sistema Italia alle fonti rinnovabili di cui tanto si parla di cosa realmente avremmo bisogno ora immaginando di lasciare invariati i consumi ce la faremo a soddisfarli con le sole rinnovabili nella considerazione punto importante fondamentale della loro intermittenza a queste domande abbiamo cercato di rispondere con due report sostanzialmente uno che è già pubblicato ed è quello che vedete in questo screenshot di cui ho messo come avete visto come vedete poi tanto appunto il report è liberamente scaricabile appunto all'indirizzo qua sotto lo vedete in rosso in ogni caso poi le slide rimangono e rimane tutto agli atti in qualche modo quindi potete tranquillamente far capo a questa cosa insomma tra l'altro Stefano Tiribuzzi era brevemente comparso nella lista sì 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 Stefano e poi è veramente la mente di tutto questo in realtà è Stefano appunto che si è collegato non so se è ancora collegato meno ma insomma comunque tra l'altro lui è veramente la persona è rientrato adesso ecco che ha ideato questo report insomma quindi spero di dire le cose giuste anche perché se no poi Stefano in privato mi redarguirà insomma comunque ecco io mi sono scritto degli appunti in qualche modo anche per essere più preciso possibile e scusate vado sto andando indietro perché questo cosa ogni tanto ecco questo allora dunque l'obiettivo l'obiettivo appunto è in generale appunto valutare la generale fattibilità del sistema energetico italiano completamente basato sulle fonti rinnovabili in particolare appunto l'idea era quella di quantificare le dimensioni necessarie per rapporto di fotovoltaico ed eolico e valutare in qualche modo le problematiche legate all'intermittenza di queste fonti perché il grosso problema come sappiamo è che al giorno d'oggi che poi il problema che fece vincere a suo tempo tra l'altro faccio una piccola digressione storica ma voglio dire ai tempi della macchina a vapore di Newcomen e poi di Watt cioè le fonti le fonti diciamo all'epoca rinnovabili che erano i mulini a vento che erano queste queste strutture sostanzialmente legate ai bacini idrici eccetera erano molto più avevano un'efficienza maggiore rispetto alla macchina di Watt la macchina di Newcomen però poi quell'altra si è sostanzialmente imposta sul mercato e poi ha dato luogo a quella che è diventata la rivoluzione industriale perché per la disponibilità del combustibile fondamentalmente cioè noi potevamo avere una società industriale perché potevamo usare il carbone quando volevamo cioè il concetto è stato quello cioè se tu hai bisogno di mettere in piedi una produzione industriale hai bisogno di avere un mondo in qualche modo programmabile cioè programmato tu hai una produzione e dici ma io devo lavorare da qui a qui e mi serve che questa cosa sia affidabile anche se il rendimento è inferiore in realtà quindi vinse per questo cioè la rivoluzione si impose anche per questi motivi noi diciamo qualche secolo dopo dovremmo cercare di tornare indietro un pezzettino da questo punto di vista e vedere appunto di ovviare grazie anche un po' alla tecnologia a questo problema dell'intermittenza ovviamente questo studio che noi abbiamo fatto questo schedule ha degli assunti di base ha delle assunzioni di base e ha ovviamente dei limiti ci mancherebbe appunto li ho brevemente elencati sono dalla combustione all'elettrificazione di tutto elettrificabile quindi l'idea è l'assunzione è noi coi combustibili fossili arriviamo a 1800 terawattora l'anno di consumi immaginando l'ultimo anno normale il 2019 il normale vuol dire prima della pandemia prima del conflitto russo-caraino prima di tutto una serie di altre questioni assommavamo appunto a 1800 terawattora di energia primaria come consumi ovviamente un po' come accade per il motore a combustione interna molta di questa energia se ne va in calore non arriviamo alle percentuali di una macchina di un'automobile ma insomma ci si avvicina abbastanza tanto che se fosse se con un schiocco di dita riuscissimo ad avere tutto elettrico da 1800 terawattora avremmo bisogno di soli 700 terawattora anno facendo una stima ecco appunto abbiamo fatto con guardando appunto alcuni report tra l'altro prendendo come riferimento anche alcuni flussi di energia del Livermore Laboratory degli Stati Uniti questo modello è un dato incoraggiante ovviamente diceva caspita se ne serve così tanta meno forse ce la possiamo fare insomma quindi il modello è un modello a piastra di rame ovvero non stiamo tenendo conto almeno nello Shetour 1 non teniamo conto delle inevitabili perdite legate ai trasferimenti di energia dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo poi di questa cosa abbiamo fatto un breve scenario in Shetour 2 cioè in questo report che poi verrà successivamente pubblicato e quindi la pubblicazione è ormai imminente poi immaginiamo una completa elettrificazione dei consumi ovviamente non entriamo nel merito però di come realizzarla perché anche qui è tutto un ragionamento che va fatto su molti aspetti insomma la nostra è un'analisi di fatto quantitativa non qualitativa è un'analisi di sensitività peraltro di capire esattamente dove andiamo a parare con queste cose e poi che cosa ancora appunto immaginiamo sostanzialmente un'autorchia energetica ovvero senza scambi con l'estero se non in uno degli scenari che poi elenchiamo brevemente nella slide successiva ecco anche questo diciamo è un assunto un po' un po' così diciamo ipotizziamo di essere un mondo isolato e nessuno è un mondo isolato anzi uno degli insegnamenti che abbiamo da Shetour è proprio questo cioè non c'è come dire da soli non si va da nessuna parte fondamentalmente soprattutto in un paese come l'Italia che ha grande disponibilità di sole per carità molta meno disponibilità di vento ma nessuna disponibilità di fonti fossili o di altre diciamo riserve di altro genere insomma detto questo appunto si tratta di un'analisi di sensitività lo studio ovviamente non ha l'ambizione questo lo vogliamo sempre chiarire ogni volta perché siamo stati più volte in diverse occasioni fraintesi anche tra di noi a volte come ASPO all'interno ci siamo fraintesi non ha l'ambizione di essere un piano energetico non ce l'ha perché per fare i piani energetici ci servono altri presupposti ovviamente auspichiamo però che possa essere una cosa di cui si tiene conto insomma perché come diceva anche Hugo Bardi nella sua nella sua presentazione a problemi complessi non ci sono soluzioni semplici e questo studi in particolare questo shuttle 1 shuttle 2 lo dimostrano chiaramente che che non c'è una soluzione semplice non se ne viene fuori in maniera semplice dalla situazione in cui siamo se come obiettivo otteniamo quello di fare una transizione al tutto rinnovabile appunto quindi abbiamo immaginato sostanzialmente per il di completa decarbonizzazione cinque scenari appunto di cui due supplementari nei quali abbiamo aggiunto ogni volta un pezzettino in più perché abbiamo visto vabbè immaginando una capacità fair cioè delle fonti rinnovabili al 100% non ce la facciamo allora possiamo aggiungere un accumulo per l'intermettenza circadiana perché il problema qual è chi ha un impianto fotovoltaico chi ha la fortuna di avere un impianto fotovoltaico a casa propria questa cosa la vede bene di giorno hai addirittura un eccesso di produzione e di notte se non hai delle batterie devi essere sicuro di essere agganciato al gestore dei servizi elettrici perché altrimenti non rimane al buio e magari anche al freddo quindi sostanzialmente l'idea di avere delle batterie da tampone tra virgolette che ti permettono di avere la luce che ne so anche riscaldamento magari la notte insomma quindi abbiamo immaginato di aggiungere un accumulo nel secondo scenario per l'interventenza circadiana nel terzo scenario abbiamo immaginato anche una certa modulazione nei consumi una cosa di cui poi abbiamo affrontato in maniera più approfondita nel Shatter 2 abbiamo immaginato anche un sovradimensionamento della capacità produttiva perché appunto l'idea è con il 100% delle fonti rinnovabili non ci si fa il problema è installarne di più così abbiamo maggiore copertura ma questo rischia anche addirittura per certi aspetti quasi di aggravare il problema perché hai dei picchi della produzione poi hai dei picchi ancora più alti quando poi il sole non c'è non c'è che tu abbia il 100% né che tu abbia il 150% quindi il problema è anche questo abbiamo poi uno scenario 5 che è lo scambio con i paesi di mitrofi ecco abbiamo appunto qui abbiamo detto allora proviamo a immaginare di avere più o meno un fuso orario diciamo a sinistra e a destra dell'Italia e di prendere accordi diciamo transnazionali immaginando come dire di poter commerciare energia rinnovabile con queste con i paesi in qualche modo a noi vicini che stanno un fuso avanti e un fuso indietro in realtà poi anche immaginando altre idee altre cose forse più che est-ovest sarebbe quasi da fare più nord-sud ma insomma qui il ragionamento si complica a noi ci interessava cioè immaginare che se questa cosa attenua sostanzialmente gli ammanchi invernali perché qual è il problema il problema sono gli ammanchi invernali cioè d'estate in un paese come l'Italia tutto sommato va abbastanza bene insomma con qualche problema ma va abbastanza bene d'inverno veramente si sta al freddo e al buio se si fa solo con le rinnovabili quindi insomma io ho visto anche molto volentieri le cose che dice Ugo Ugo è veramente da questo punto di vista un ottimista io ripeto sono un po' meno ottimista nel senso che se poi andiamo a metterci lì a fare i calcoli si vede che i problemi ci sono e non sono neanche banali abbiamo un po' lo scenario 6 che è come lo scenario 4 ma con un accumulo stagionale poi vedremo in cosa consiste questo accumulo stagionale e poi lo scenario 7 che è come lo scenario precedente ma con i consumi con i consumi dimezzati ecco in tutto questo cos'è che abbiamo imparato appunto intanto abbiamo imparato che il mix energetico ovviamente più plausibile immaginando come diciamo stabili le risorse idroelettriche e geotermiche e perché immaginiamo stabili se non addirittura in calo per certi aspetti perché l'idroelettrico in Italia non ha più capacità di sviluppo se non per il mini idroelettrico ma anche lì insomma anche lì stiamo parlando di punti percentuali rispetto al fabbisogno nazionale peraltro con l'essicità a cui siamo andati incontro negli anni questo idroelettrico rischia di passare in secondo piano perché l'acqua potrebbe essere utile invece per soddisfare i bisogni delle persone o dell'irrigazione dei campi eccetera quindi anche lì è una cosa che va vista insomma cioè va tenuta conto di queste due fonti qua sono sostanzialmente stabili abbiamo una forte prevalenza in paesi come l'Italia ovviamente del fotovoltaico rispetto all'eolico l'eolico la generazione estiva ovviamente risulta solo abbondante mentre quella invernale è insufficiente ma questo diciamo anche senza calcoli alla mano lo potevamo immaginare poi quando uno si mette a fare i conti si rende conto invece proprio di quanto invece c'è uno sbilanciamento forte tra queste due cose e appunto ci sarebbe una possibilità di mitigazione perché appunto l'eolico funziona abbastanza di più d'inverno mentre quindi è una fonte diciamo in qualche modo complementare al fotovoltaico però in un paese come l'Italia è difficilmente immaginabile quindi la disponibilità della risorsa eolica è inferiore è di molto inferiore alla disponibilità della risorsa fotovoltaica e quindi in sostanza una prima conclusione è che la copertura che fa bisogno invernale di energia a volumi e profili di domande attuali cioè immaginando di non toccare i consumi è molto molto critica cioè non ci si fa c'è uno sbilanciamento stagionale tra una curva di generazione con il mix indicato e una curva di consumi che abbiamo appunto immaginato identica a quella di oggi e non può essere neanche risolto neppure con il ricorso con il ricorso appunto a queste tre cose che abbiamo messo in campo le tre carte che ci siamo giocati quale sono? il sovradimensionamento di questo installato quindi al 150% del fabbisogno diciamo un accumulo di breve periodo cioè le famose batterie che compensano giorno-notte fino ad arrivare a 400 gigawattora 480 scodate gigawattora è un accumulo stagionale di 30 teravattora di power to gas ovvero adesso poi lo vedremo questo discorso dell'accumulo stagionale che appunto in qualche modo cerca di compensare questo sbilanciamento tutto estivo verso l'invernale cioè in maniera da mitigare questo effetto l'unico scenario tra i sette che in qualche modo ci permette di rientrare all'interno dell'uso delle sole fonte rinnovabili immaginando il suo radimensionamento accumulo eccetera eccetera è il settimo scenario dove sostanzialmente dimezziamo i consumi ma dimezziamo linearmente vuol dire noi abbiamo detto va bene l'Italia consuma 700 teravattora l'anno ipotizziamo di andare a 350 a quel punto ci stiamo dentro però capite bene che insomma non è che si possono fare dei tagli lineari qui siamo ovviamente nell'ambito delle 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 ipotesi insomma delle cose ipotetiche che difficilmente poi realizzabili nella realtà insomma ecco ecco qui appunto il discorso dello sbilanciamento estate e inverno come si può colmare questo divario tra la forte produzione estiva che vorremmo non buttare via sostanzialmente e la carenza gli ammanchi che abbiamo invece cronici che abbiamo invece in inverno allora l'idea l'idea che ovviamente qui devo dire proprio Stefano è stato il principale il principale artefice di questa idea è quella di immaginare un sistema in qualche modo circolare che tra l'altro va anche proprio a net zero cioè tutti i crismi legati alla alla questione del 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 non emettere appunto più più CO2 o di catturarla e in qualche modo appunto conservarla perché perché noi sostanzialmente non esiste a livello attuale della tecnologia perché ecco uno dei presupposti che non ho scritto in queste slide è le tecnologie che utilizziamo non sono quelle del futuro sono quelle di oggi il mondo vorremmo utilizzare cioè noi ci siamo dati come obiettivo anche quello di utilizzare le cose che già esistono in questo mondo perché se no per rifare il mondo da capo siamo tutti capaci cioè noi sentiamo spesso parlare anche di idrogeno di economia dell'idrogeno di idrogenodotti ma sono tutte cose che vanno costruite cioè non c'è niente al giorno d'oggi ancora di queste cose qua quindi è veramente difficile immaginare una cosa del genere mentre immaginando di utilizzare il più possibile le cose che già esistono qualcosa un po' poi si può sempre migliorare per carità però qualcosa si riesce a fare quindi l'idea qual è sostanzialmente spiego brevemente questo schema allora c'è un surplus estivo dato dalla produzione fotovoltaico una parte di questa produzione va nel consumo diretto non so se riuscite a vedere il mio mouse spero di sì sì si vede ok perfetto una parte viene differita attraverso le batterie poi molta parte di questo surplus estivo che è molto elevato va ad alimentare degli elettroizzatori che producono H2 cioè quindi idrogeno molecolare e a sua volta va a diventare dei metanatori cioè degli oggetti che creano metano metano verde metano di sintesi e come lo creano questo metano lo creano mescolando sostanzialmente del sostanzialmente del della CO2 cioè lo stoccaggio diciamo noi abbiamo una CO2 stoccata vedremo poi da dove arriva questa CO2 stoccata perché arriva dall'anno prima cioè arriva dal funzionamento delle turbogas dell'anno prima infatti qua come vedete ci sono le due frecce che vanno verso lo stoccaggio di CO2 che sono le centrali a biomassa di cui abbiamo tenuto poco conto ma soprattutto delle centrali a ciclo combinato che sono delle centrali a turbogas che producono energia elettrica e i cui fumi vengono catturati e vengono stoccati in carbondotti sostanzialmente quindi l'anno prima si fa questa cosa abbiamo uno stoccaggio diciamo questo è più teorico ovviamente però diciamo gli stoccaggio di CH4 ce l'abbiamo già perché il metano dove stoccare il metano che utilizziamo normalmente ce l'abbiamo già tranquillamente i metano dotti li abbiamo già tranquillamente cioè le infrastrutture esistono già quindi come dire anche lo stoccaggio della CO2 può essere stoccata in depositi simili a quelli della CH4 quindi del metano sostanzialmente quindi la CO2 insieme all'H2 dei metanatori cioè che arriva ai metanatori attraverso l'elettrolizzazione crea sostanzialmente CH4 cosa ce ne facciamo di questo metano di sintesi lo mettiamo lo facciamo lo bruciamo in centrali al ciclo combinato per fare che cosa per generare energia elettrica perché l'idea è un mondo completamente elettrico ovviamente quindi non è che poi gli utilizzi sono di altro genere eccetera il mondo è elettrico quindi le centrali turbogas generano elettricità i fumi di queste centrali quindi la CO2 va di nuovo in questo in questo stoccaggio di CO2 e basta sostanzialmente il ciclo è finito ovviamente questa parte qui è estate diciamo se uno potesse dividere questo schema questa prima parte la parte a sinistra diciamo è l'estate la parte a destra è l'inverno dove abbiamo il consumo invernale come vedete qua in basso e che poi arriva verso l'estate però quindi si va all'anno successivo quindi di fatto il ciclo poi ricomincia quindi abbiamo la produzione attraverso le fonti rinnovabili eccetera quindi questo perché tutto questo meccanismo così che sembra apparentemente complesso la cui realizzazione magari è non è facile non è semplice ma concettualmente in realtà è semplice da immaginare perché perché non esistono batterie sostanzialmente non esistono accumuli di tipo chimico che possano essere spenti di fatto una volta all'anno cioè non esiste una batteria che tu l'accendi un'ipotetica batteria o un apotetico accumulo di energia che tu l'accendi e lo spegni una volta all'anno e con questo diciamo compensi tutti gli ammanchi invernali che non sono pochi per un inverno intero quindi l'unica possibilità avendo le centrali di turbogas in Italia esistono già esistono già i metanodotti esistono già i depositi di metano esistono già comunque facilmente riadattabili degli stoccaggi di CO2 l'insieme di queste cose darebbe la possibilità di creare questo meccanismo virtuoso perché idealmente non butti fuori CO2 quindi la CO2 che avviene nella combustione delle centrali a ciclo combinato che hanno già un sistema di recupero dei gas di emissione dei gas in realtà permette un bilanciamento zero di CO2 quindi questo è il concetto ecco passo quindi a poi a CETUR2 che è diciamo lo studio che dovremmo far uscire a breve dove in realtà ci siamo concentrati un po' di più sulla sulla questione della perché una delle cose che diciamo nel dibattito corrente è più è più è anche più fattibile forse è anche più immaginabile un po' l'uovo di colombo viene vista da alcuni e tra i quali c'è anche il marco giusto di cui si accennava prima è il famoso demand response ovvero un processo di adattamento della domanda alla generazione da fonti rinnovabili visto che c'è una specie di intermittenza allora cerchiamo di spostare quando c'è produzione da fotovoltaico e anche da eolico ovviamente visto che è intermittente ma in qualche modo programmabile tra virgolette perché le provisioni del tempo sono abbastanza affidabili fino a quando il cambiamento climatico anche lì non manderà carte 48 tutto quanto ma insomma tendenzialmente se le previsioni mete dicono che domani c'è il sole possiamo stare abbastanza tranquilli lasciando l'ombrello a casa ecco quindi vuol dire che è vero che sono intermittenti ma sono in qualche modo anche programmabili le fonti rinnovabili di conseguenza se domani c'è il sole e io so che produco io faccio l'esempio di casalingo perché è quello che la casa comune è anche la casa delle singole persone ed è la casa poi di tutti probabilmente sono molto più complicati in una nazione ovviamente ci mancherebbe non è così semplice però io lo vedo è molto istruttivo è molto didattico avere un impianto fotovoltaico a casa perché perché quando te stai producendo e c'è l'app su questi dispositivi c'è un'app del cellulare che ti dice quanto stai producendo istantaneamente puoi dire va bene allora carico la macchina elettrica attacco la lavatrice attacco il forno faccio tutto questo insieme tanto spendo euro zero per il momento quindi il concetto è immaginare questa cosa moltiplicata all'ennesima potenza un po' per tutto fondamentalmente quindi compreso la produzione industriale che non è più non è semplicissimo ma voglio dire con qualche sforzo e anche con un po' di tecnologia magari con la domotica per esempio con quella che chiamiamo domotica cioè ci puoi mettere poi esiste ormai esiste un mondo di sensori che ti dicono esattamente quanto quanto tu produci quanto tu lo possono rilevare quindi quando quando si produce sopra un certo tot attacchi un utilizzatore per esempio no quindi senza che tu lo faccia a mano e si possono mettere in piedi delle cose di questo genere tra l'altro qui al CNR abbiamo anche un istituto di informatica e telematica che si sta occupando proprio di queste cose di questa domotica un po' spinta e di questo immaginare un futuro anche su su questo tipo di cose fondamentalmente quindi ci siamo focalizzati più su questa su questa idea quindi processo di adattamento è la domanda alla generazione delle fonti rinnovabili sovvertendo quello che è stato appunto fino ad adesso se ne parlava prima cioè l'usare l'energia adesso per adesso abbiamo usato l'energia quando ne abbiamo bisogno e quando vogliamo e ora in poi dovremmo cominciare a usare l'energia quando c'è quando ce n'è disponibilità quindi anche qui sono stati fatti diversi scenari perché appunto gli scenari ci servono a capire dove si va a parlare sostanzialmente il concetto è un po' questo quindi abbiamo fatto uno scenario base dove appunto non abbiamo fatto nessuna redistribuzione ed è formalmente identico allo scenario 6 dello shatter dello studio precedente insomma che abbiamo elencato prima abbiamo una redistribuzione giornaliera dei carichi immaginando uno spostamento della domanda dalle ore notturne a quelle di maggiore insolazione quindi a quelle diurne mantenendo invariato il consumo giornaliero con una percentuale del 20% ora ovviamente queste percentuali è chiaro che sono un po' arbitrarie insomma abbiamo scelto questi valori come cioè questi coefficienti di redistribuzione per dare un'idea dell'ordine di grandezza che ci è sembrata ragionevole poi è ovvio che si può alla fine questo è anche un'analisi teorica quindi si possono cambiare questi valori si può vedere anche dove si va a parare si può cercare di capire anche quanto di questi valori quanto di questo 20% è veramente possibile fare quanto di quello che come utilizzatori possiamo spostare possiamo davvero spostare insomma in maniera sistematica dalla notte al giorno eccetera eccetera questo vale in generale intendo dire lo spostamento della domanda vuol dire spostamento della domanda civile e immaginiamo anche industriale in qualche modo ovviamente l'altro scenario invece è quello sulla base annuale quindi qui addirittura siamo stati ancora più prudenti abbiamo immaginato uno spostamento del 10% quindi anche perché parliamo di una produzione che prima era invernale che deve diventare estiva insomma quindi quante delle produzioni in un paese come l'Italia possono essere spostate almeno per un 10% dei consumi energetici dall'inverno all'estate o comunque dalle stagioni di minore insolazione a quelle di maggiore insolazione questa è la domanda quindi prendetela insomma come noi le abbiamo prese come una black box cioè una scatola diciamo nella quale siamo andati a vedere dentro cosa c'è abbiamo dato questo segnale per dire potrebbe essere così la C invece lo scenario C invece è la combinazione del giornaliero e dell'annuale ovviamente quando poi faccio vedere questi scenari cioè quando parlo di questi scenari è perché ovviamente con nessuno di qui cioè non ci si ferma nelle fare scenari perché nessuno di questi soddisfa questa cioè sia nel shatter 1 che in questo shatter 2 nessuno di questi scenari riesce ad arrivare all'obiettivo che è quello di coprire fa bisogni solo con rinnovabili quindi non so se riuscite a capire la complessità della cosa perché abbiamo fatto sette scenari con shatter 1 adesso abbiamo detto va bene tenendo fermi quegli scenari immaginiamo di spostare anche la domanda nonostante questo come vedete con appunto scenario B scenario G scenario A scenario C fino a qui non ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta un po' meglio con una ridistribuzione spinta che abbiamo chiamato scenario S quindi spostamento della domanda ancora di più rispetto agli scenari G, A e C e addirittura poi a questo abbiamo aggiunto un taglio dei consumi associati al grado di ridistribuzione dello scenario C della combinata che è appunto il 20% giornaliero e il 10% annuale quindi ancora una volta cosa abbiamo imparato se aggiungiamo gli scenari S e T quindi quegli spinti con i tagli presentati in Schedule 2 e a questo ci associamo anche lo scenario S7 di Schedule 1 in questi tre scenari solo in questi tre però attenzione si riesce a coprire quasi interamente il fabbisogno nazionale di energia basandosi interamente sull'elettricità prodotta da ferre cioè da fonti energetiche rinnovabili rinnovabili agendo quindi sia sul lato della produzione che sul lato della domanda tutto questo per dire che cosa alla fine che è complicata la faccenda signori miei è più complicata di come di come ce la fanno vedere spesso di come alcuni entusiasti o tecno entusiasti dicono ah sì ma ora ci arrivano le batterie fanno questo arrivano a quell'altra cosa fa quell'altro tutte cose che concorrono sicuramente però per una nazione come l'Italia che è una nazione media una nazione tendenzialmente tendenzialmente sovrapopolata tra virgolette nel senso che sono 59 milioni di abitanti 59-6 milioni di abitanti eravamo quasi 60 siamo in calo di elevata industrializzazione eccetera eccetera insomma siamo all'attitudine media quindi abbiamo tutta una serie di caratteristiche per le quali ci possiamo considerare un paese medio per molti aspetti con delle caratteristiche però anche molto favorevoli da questo punto di vista perché questa cosa qui la possiamo fare in Italia ma immaginate la Germania immaginate i paesi dove l'insolazione è molto più bassa magari hanno più vento forse però i problemi sono analoghi cioè non è che si risolve con uno schiccard di dita si risolve con uno schiccard di dita le cose cioè se si vuole davvero immaginare zero produzione di CO2 è dura è molto molto dura qui io finisco la mia presentazione ovviamente avevo lasciato anche il mio indirizzo posta elettronica nel caso in cui qualcuno vuole essere scritto è molto semplice perché nome.cognome cnr.it e qui mi taccio cioè mi taccio chiudo la presentazione e interrompo la condivisione per diciamo dare spazio eventualmente a una chiacchierata a una discussione a curiosità eccetera eccetera tra l'altro vedo solo adesso che in chat ci sono ben sei messaggi ci pensa eventualmente ma sono commenti quelli più che altro diciamo che non c'è non ci sono delle grosse domande ok una domanda iniziale sì poi proprio sulle cose che hai detto e poi un piccolo un piccolo come dire commento di carattere generale sì a che fare con la storia degli schiavi di cui parlavi prima ora la prima domanda che riguarda proprio il modello che così mi rendo conto molto complesso ma comunque molto stimolante poi magari vedremo anche degli altri interventi di entrare nel merito ho notato che almeno a via avviso manca un pezzo che potrebbe essere importante il pezzo è dell'utilizzo del biometano prodotto ovviamente per il trattamento anaerobico degli scarti urbani industriali fognari eccetera che potrebbero essere loro ad alimentare adesso poi si tratta di fare ovviamente i conti opportuni questo lo dico perché in parte è un argomento che comunque pensavamo di approfondire con una successiva chiacchierata questo perché la cosa è molto interessante abbiamo un'ipotesi di produzione di biometano che quindi è una fonte di energia rinnovabile con alto potere energetico ma appunto il metano anche il metano fossile che per l'Italia nei prossimi anni si può si è stimato mi pare dal minimo da 3 miliardi di metri cubi all'anno forse addirittura fino a 7 quindi quantità tutt'altro che trascurabili questa è una produzione nazionale una produzione che può essere messa in comunicazione con tutti i paesi dell'Europa perché i gasodotti ci sono già poi un domani quando questa benedetta guerra sarà finita potremo anche pensare di riallacciarci con la Russia e questo ecco la domanda era perché non avete valutato questa possibilità che poi di fatto la fonte energetica è proprio d'inverno anche qui non ha non ha produzione di postagionale la produzione di biometano può essere utilizzata proprio per supprire quelle carenze oggettive che il solare eolico potrebbero dare allora noi appunto di fatto il biometano l'abbiamo lasciato forse anche colpevolmente da una parte perché ci è sembrato che incidesse poco sulla forse sbagliando non ho mica detto che il nostro modello sia quello perfetto perché ti ho detto i volumi sono in gioco i volumi i volumi hai detto sono 7 milioni 3 miliardi miliardi di metri cubi proprio ho guardato proprio per questa cosa ho visto gli aggiornamenti ci sono ipotesi dei prossimi 2 o 3 anni di arrivare mi pare a 3 miliardi per arrivare a 5 e forse a 7 come stime fatte al qualche tempo fa valutavano tenendo conto di tutti gli scarti che l'Italia produce ecco di questo stiamo a parlare no ok io su questo vuol dire tutto concorre attenzione quindi benissimo anche le biomasse il biometano eccetera ma il biometano scusate non le biomasse è un'altra cosa le biomasse o qualche per velocità un paio di maniche no il biometano io però se non mi ricordo male se potrei sbagliare a memoria mi ricordo che l'Italia ha consumato di gas metano normale in un inverno qualcosa come 22 miliardi di metri cubi di gas quindi se siamo a 3 è una percentuale relativamente piccola rispetto poi magari se arriva a 5 6 tanto per il periodo quando serve come nel Toschese per tutto l'anno consumo tutto il metano i conti che ho fatto io è che sostanzialmente l'autoproduzione italiana potrebbe equivalere alla produzione annuale di uno o due di quelle gasiere che cercano di appartarci lungo le nostre coste però può essere che i miei conti siano sbagliati no 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 invito a tenerle conto perché insieme al metano c'è la produzione anche di compost che a sua volta ti permette di abbassare i consumi di effetti agricoli quindi è un discorso e come ho detto prima le condutture ci sono esistono già degli studi per mettere accordi europei in modo tale che le specifiche siano simili insomma è un discorso a mio avviso interessante su cui varrebbe da appena parlare la seconda riflessione è quella cosa stimolante degli scav soltanto un piccolo inciso questa storia di produrre energia elettrica accendere le lampadine pedalando era uno dei nostri giochini che offrivava al pubblico negli anni 70 quando come ti raccontavo all'inizio con un gruppo di amici abbiamo pensato che varisse la pena di far conoscere le fonti energetiche di innovare e quindi è vero per accendere le lampadine bisogna fare molta forza io però una riflessione che avevo fatta e quindi di passo è che allora sostanzialmente l'uso di energie rinnovabili adesso poi parliamo un po' della schiavitù che ovviamente è un tema importante comunque la riflessione era che la civiltà umana dalle sue albori fino al 1800 e qualcosa si vuole all'inizio dell'evoluzione industriale ha funzionato a energie rinnovabili sostanzialmente non tanto anche per la forza umana degli animali ma anche per il legname che veniva utilizzato questo limite indubbiamente stagionale quantitativo eccetera non ha impedito lo sviluppo di civiltà e questa è la cosa secondo me è una riflessione interessante io nelle mie conversazioni faccio vedere gli egiziani che trasportano un grande come dire statua in pietra pesantissimo con del loro faraone con una sessantina di persone attaccate a delle cavi e tenendo a presente che queste persone non erano schiavi erano funzionari pubblici insomma erano pubblici dipendenti del faraone che la ricchezza dell'Egitto quindi permetteva di fornire il combustibile che ovviamente era i farinacei che permettevano di tenere in piedi tutta questa quantità migliaia e migliaia di persone ecco questo è stato come potevano farlo con l'ingegno cioè come riuscivano a muovere questa massa così enorme della statua del loro faraone bene con i rulli come dire lubrificando i rulli e così via quindi tutto questo ripeto non ha impedito tutte le grandi civiltà e questo discorso che ho fatto adesso andiamo fino alla cupola di San Pietro perché anche Michelangelo non aveva altra cosa a disposizione per costruire soltanto per fare un esempio la cupola di San Pietro con appunto le forze animali e con grandi ingegni quindi la domanda se questa allora in qualche modo il ritorno tra virgoletta a forti di energie rinnovabili con maggiore efficienza non possa permettere di sostituire appunto gli schiardi quindi la forza umana con le macchine che oggi abbiamo e ovviamente all'interno di una società come tra l'altro tu stessa accendi che si adegua ai cambiamenti climatici che la cosa secondo me più importante l'avete anche accennato di unirsi i propri consumi aumentando l'efficienza perché questo è anche uno di quei temi che in qualche modo voi avete trattato ma mi pare estremamente importante allora dunque la riflessione che fai è ampia allora io forse erroneamente parlo di sviluppo della civiltà bisogna intendersi su cosa intendiamo appunto per sviluppo della civiltà perché voglio dire quando parlavi degli schiavi cioè degli egiziani ma a me veramente banalmente che se non ricordo male era toste qualcuno di questi è riuscito a misurare la dimensione della terra la circonferenza della terra con un bastone no? perché l'Alessandria ha fatto l'angolo quindi voglio dire più genio di così cioè c'è un bastone con un bastone ti misuro la dimensione della terra quindi insomma mi levo molti cappelli non uno solo quindi ecco cioè civiltà qui fa rima con ingegno e su questo sono perfettamente d'accordo con te forse avrei dovuto usare un altro termine forse bisognerebbe usare il termine benessere diffuso benessere non so come dire perché è vero che non è detto che necessariamente le due cose vadano di pari passo però la grande disponibilità energetica ha permesso di essere 8 miliardi questo non c'è dubbio capisci questo voglio dire cioè ha permesso lo sviluppo della medicina ha permesso la rivoluzione verde ha permesso di sfamare tutte le persone cioè caspita sono cose abbastanza grosse queste mentre prima eravamo molti meno sulla terra quindi sicuramente in maggiore equilibrio da questo punto di vista con il pianeta che viviamo però di certo di certo con meno con meno disponibilità da questo da questo punto di vista poi è chiaro che la civiltà figuriamoci a me parlo di vivere nella barbarie cioè se penso agli antichi greci o cose del genere insomma ogni tanto mi sembra che il meglio stia alle spalle non so come dire non in avanti è anche vero che però per esempio ed è un tema di dibattito anche all'interno di Aspo dove abbiamo una mailing list di poche persone ma molto vivaci è tema di dibattito anche sul discorso per esempio dello sviluppo scientifico banalmente cioè siamo quasi tutti scienziati all'interno di Aspo oltre ad essere io al CNR ma insomma la scienza finisce no? non finisce non finisce ma perché? perché c'è anche un grande supporto per esempio penso alle scoperte della fisica no? c'è un grande supporto di strumenti che sono estremamente energivori estremamente complessi dal punto di vista tecnologico cioè c'è una tecnologia che è una lama di rasoio voglio dire Einstein aveva teorizzato le onde gravitazionali però e diceva probabilmente non verranno mai rilevate perché è talmente piccola la cosa di queste onde è talmente impercettibile che non verranno rilevate peccato che invece siano state rilevate qualche anno fa da Virgo e dai vari come dire interferometri in giro per il mondo l'interferometro è una roba complicatissima insomma che richiede uno sforzo tecnologico un colpo di reni come dico io per mettere alla frusta la tecnologia massima possibile e quindi è un motore anche per lo sviluppo tecnologico ma tutto questo succede perché c'è disponibilità di energia senza la quale non vai da nessuna parte il concetto è questo qui siamo assolutamente d'accordo torno a ripeterti comunque con ripeto pur non avendo tanta energia le civiltà si sono comunque sviluppate a Siro, a Grecce ripeto l'esempio che ti ho fatto di Roma di Michelangelo è proprio così Brunelleschi cosa aveva a disposizione assolutamente il concetto è un po' quello gli schiavi è la parte se vogliamo un pochino più come dire ti colpisce loro avevano degli operai avevano dei cavalli appunto la cosa che non mi viene il nome l'obelisco di San Pietro come pensi che sia stato tirato su e trasportato lì dall'estero no no certo l'hanno fatta l'hanno fatta come hanno armato gli eserciti con il ferro tirato fuori dall'isola d'Elba e trasformata appunto raffinata e trasformato in gladi lanci e quant'altro no 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 ma io ripeto sono perfettamente d'accordo per costruire Roma come pensi che sia stata fatta e ripeto ovviamente quindi nessuno pensa ovviamente di tornare a queste situazioni però la mia riflessione era con l'ingegno perché questa è la cosa tu a questo punto di una situazione anche molto limitata non ti impedisce di fare cose grandiose sono d'accordo ma io guarda su questo in realtà sono completamente d'accordo con quello che dici perché la minore disponibilità energetica non sarà necessariamente un tornare indietro da questo punto di vista anzi anzi probabilmente ci sarà un progresso da questo valutando le cose che stai appena dicendo è chiaro che appunto il riferimento non è tanto all'ingegno e allo sviluppo che ci sono stati basta guardarsi intorno i manufatti fatti appunto io mi ricordo un alluvione in Piemonte in Val Chisone poi originario di quella zona lì allora il ponte romano non venne giù nonostante fosse coperto dall'acqua vennero giù sulle spallette il ponte quello della ferrovia in cemento armato fatto due giorni prima aveva i come dire gli spaghetti dei binari a penzoloni insomma quindi voglio dire tutta sta siamo in realtà alla barbarie da questo punto di vista c'è tutta la sua disponibilità energetica per essere poi insomma sappiamo che sappiamo che il cemento armato insomma tutti i romani l'ho visto il tempo fa una trasmissione una cosa incredibile appunto metri di condutture per portare l'acqua per dare l'acqua a centinaia se no a dire due milioni di persone fuori dal CNR c'è l'acquedotto romano ripeto dietro ma ecco forse recuperare la forza la potenza della conoscenza che potrebbe avere una conoscenza diffusa questa ultima riflessione poi magari passare la parola penso che ci siano anche altri perché ripeto sei stato molto stimolante col tuo intervento era quella cosa che hai detto che quanto chi ha un pannello solare fotovoltaico in qualche modo ci è a disposizione in qualche modo si regola è interessante questo fatto perché hai trovato didattico su di me ora ripeto secondo me è molto importante perché da una parte il discorso del piccolo è bello poi magari ne possiamo anche parlare però diciamo così poterti confrontare col tema che dicevi tu all'inizio questo tema così vanescente l'energia che cos'è non la vedi non so come dire la difficoltà di poter impadronirsi di questa tematica così complessa quando tu la vedi cioè tu dici tu hai questo pannello trasforma l'energia solare con i suoi limiti io questi limiti in qualche modo li adotto c'è il sole faccio il boccato le cose anche semplici che tutti ma esattamente è quello che facciamo noi quindi se noi facessimo parte di una comunità energetica allargata che dovessimo in qualche modo tener conto di solo delle energie rinnovabili che arrivano sul nostro territorio saremmo molti più persone attente a queste cose quindi a regolarci in base alla disponibilità è il vecchio punto del contadino se posso permettere ma qui mi taccio e se c'è qualcun altro che vuole intervenire do la parola come so se io avevo alzato la mano perché avevo due domande per Luciano uno è nella parte di come combattere il problema dell'inverno e quindi come riuscire a trovare del uno stoccaggio energetico dall'inverno prima ci arriva la CO2 facciamo i metanatori facciamo il metano verde una parte di questa si può saltare per un centinaio da anni domando continuando a utilizzare del gas italiano ci sarebbe la quantità perché sto pensando a tante persone che hanno l'indipendenza nazionale strategica come punto focale e quindi per queste persone sarebbe una cosa che li convincerebbe ad andare verso le rinnovabili pur che la sovranità nazionale fosse difesa dal gas nazionale che ti permette di passare gli inverni questa era la prima domanda e la seconda del di Shetour 1 mi pare che siate andati a parlarne al al ministero dell'energia quali sono i feedback se ne se è possibile citarli beh avrete probabilmente interagito con tecnici piuttosto che politici ma mi aspetto che qualche feedback ci possa essere sia interessante quindi queste due domande grazie allora parto dalla prima che mi sembra vagamente provocatoria da questo punto di vista come dire mi punge vaghezza che ci sia una leggera provocazione no dunque allora la questione è questa noi abbiamo ovviamente immaginato un metano di sintesi appunto con l'obiettivo di metterlo dentro queste turbo gas per generare energia elettrica quindi non per usarlo come come gas in quanto tale anche perché avresti il problema del recupero dei fumi cioè non è che puoi mettere nelle caldaie delle persone il tubino che ti fa recuperare per ogni singola caldaia e la CO2 che questa emette diventerebbe capisci bene che diventa un po' complicato insomma mi hanno fatto una chiacchierata sul CCS una decina di giorni fa quindi ne abbiamo discusso esatto esatto quindi l'unico sistema è centralizzare questi impianti che già esistono perché le turbo gas già esistono a ciclo chiuso che vuol dire che già hanno recupero di questa CO2 e lì immaginare di convogliarla e tenerla da una parte quindi è ovvio che allora la quantità di metano ora io non mi ricordo esattamente perché poi i dati ce ne sono molti moltissimi e non mi ricordo quante se ne potrebbe produrre forse Stefano se non so che si è ancora collegato potrebbe anche intervenire se ha le si lo vedo ancora collegato perché in realtà se avesse voglia di intervenire sui numeri proprio non mi ricordo quanto se ne dovrebbe produrre esattamente con questo sistema non so il preciso non lo ricordo ma si tratta proprio di qualche anno di consumi nazionali con la produzione in ogni caso esatto in ogni caso si parla di poco comunque si va da nessuna parte con quella fonte proprio esattamente quindi in generale c'è questo discorso qui in su però questo per dire che cosa che sicuramente non è una stata perseguita e poi non era sostanzialmente negli obiettivi nostri insomma ecco il concetto è quello lì cioè l'idea è andiamo tutto verso l'elettrico elettrificare significa razionalizzare anche dal punto di vista dell'efficientamento perché più bruci e meno efficienza hai il concetto è quello lì la chimica lo dice chiaramente la lezione di combustione lo sviluppo del calore l'entropia le sue leggi inderogabili peraltro non è che ti fanno un favore a te perché cioè ma io vorrei fare o al politico quando dicevo dell'utilizzo del gas era soltanto per la quota parte di copertura delle mancanze invernali sì dato tutta la struttura lasciando tutta la struttura era soltanto per vedere quanto il gas nazionale potesse servire non a coprire il fabbisogno italiano ma solamente il delta però scusami Marco guarda che il gas nazionale non ce n'è praticamente ora che lo so sono pochi anni a consumi completi ma esatto il consumo completo è quello gigantesco in cui c'è l'elettrico e c'è il riscaldamento eccetera voglio dire io allora io non ho pregiudizi da questo punto di vista quindi ho la mente abbastanza aperta per cui se questo sono ecumenico anche se questo se questo se questo servisse realmente a fare la transizione cioè andare in quella direzione ma allora ben venga anche consumare le riserve che abbiamo mi va anche bene non è un problema se questo però ha come finalità la transizione cioè non abbiamo non riusciamo a mettere in piedi domani mattina tutto il sistema che ho fatto vedere no circolare per cui benissimo usiamo il gas che abbiamo nei depositi quello che dobbiamo trivellare quel che ne è che è poco ma come diceva giustamente Federico in realtà non insomma non 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 vai molto oltre cioè se lo consumi a regime pieno in qualche anno se ne va tutto sostanzialmente vogliamo fare questo per andare verso la transizione ma a me va bene non è non è un problema il problema è che qui appunto Luca Pardi anni fa gli pubblicai un librettino che era il paese degli elefanti in cui si parlava di queste immense riserve di gas che abbiamo in Italia che non è vero cioè semplicemente è come dire no il paese degli elefanti facciamo questo esempio il paese degli elefanti perché perché è come pensare che l'Italia sia il paese degli elefanti perché ci sono due elefanti uno ha lo zoo di Pistoia l'altro ha lo zoo di Roma ecco non è il paese degli elefanti ci sono due elefanti ma sono dentro gli zoo fine quindi anche lì mettersi d'accordo su cosa vogliamo dire quanto alla seconda domanda che mi sfugge che non mi ricordo ah sì degli rapporti con la politica le abbiamo avuti diciamo abbiamo avuto un'interlocuzione in realtà non esattamente col governo ma con una sorta di emissione del governo che è questo think tank che si chiama Ecco sostanzialmente il nostro riferimento si chiama Ecco sì sì Ecco è un acronimo che sta per qualcosa in inglese ovviamente perché nonostante si sia in Italia però gli acronimi continuano ad essere inglesi e con questa Ecco abbiamo avuto l'interlocuzione in particolare con questo signore che si chiama Michele Governatori che è una persona molto in gamba è un economista però di formazione quindi non ha la sensibilità biofisica delle cose gli economisti sono persone un po' curiose non so se tra di voi ci sono degli economisti però sono delle persone un po' strane gli economisti che ti dicono te sei sconsolato perché trovi il tuo libro alle bancarelle io sai mi occupo di libri insomma è una cosa che maneggio trovi il tuo libro alle bancarelle dell'usato dici caspita questo libro alla fine è già sulle bancarelle dell'usato e l'economista gioisce perché dice ma l'hai venduto due volte una volta da nuovo è una volta sulla bancarelle dell'usato quindi capisci è la creazione del valore dal nulla sostanzialmente il libro è sempre lo stesso però gli atomi che compongono il libro sono sempre i soliti non è che l'hai sdoppiato quindi insomma c'è questa curiosa visione delle cose negli economisti e quindi con il buon governatore che è una persona molto in gamba una persona con la quale si interagisce volentieri molto bene perché è una persona anche di grande cultura in realtà diciamo noi gli avevamo messi di fronte gli studi appunto Shetor 1 gli avevamo accennato a Shetor 2 ma come dire mi verrebbe da dire sono un po' cascati dal pero ecco diciamo così insomma ora vorrei su certe questioni ci sono sembrati un po' un po' come dire non ecco per te Stefano vuole dire qualcosa volevo semplicemente ricordare innanzitutto saluto chi è in ascolto volevo solo ricordare a proposito dell'attenzione della politica nei confronti del lavoro che è stato fatto che Shetor 1 è stato citato nella mozione della Camera che era l'anno scorso approvata il 9 maggio dell'anno scorso è citata esplicitamente Shetor 1 con una lunga citazione di passaggio quindi in pratica pur non avendo interagito con il governo è già stato incluso in una mozione approvata dalla Camera sì ecco sì questo si sente sì sì no ti abbiamo sentito si sentito sì ora appunto in effetti hai fatto benissimo a ricordare questo dettaglio che in realtà non è un dettaglio è che io peraltro non ricordavo puoi dire qualcosa ancora Stefano magari su questo no diciamo più di questo non c'era da sperare certamente diciamo mi fa piacere avere contribuire poter avere delle attenzioni al lavoro che abbiamo fatto e che va nella direzione di suggerire delle soluzioni percorribili abbastanza mantenendosi sul concreto sul realismo nuove senza perseguire strade un po' troppo troppo idealizzate diciamo lo scopo principale di questo studio era quello innanzitutto di far vedere che soluzioni basate sul fatto su energia ricavata da sole vento e acqua non sono in grado di poter coprire che fa bisogno elettrico per tutto l'anno le nostre latitudini fa bisogno invernale aumenta e la disponibilità di energia rinunisce quindi dobbiamo ricorrere ricorrere ad una importante quota di produzione termoelettrica mentre invece la politica che viene fatta da ambienti che portano avanti le istanze ambientaliste tendono a demonizzare il termoelettrico invece va ho fatto una distinzione netta tra la produzione elettrica da fonte termoelettrica e l'uso di combustibili fossili quelli che dobbiamo evitare è utilizzare i combustibili fossili ma la produzione termoelettrica serve serve perché non c'è altro modo di stoccare energia per l'inverno non so se perché io non sono riuscito a collegarmi subito non so se hai ricordato che io questo l'ho detto comunque ho detto tutti i serbatori tutte le dighe che ci sono in Italia consentono di immagazzinare 6 teravattora 6 teravattora è il consumo attuale non futuro ma attuale cioè senza elettrificazione dei altri consumi di di una settimana questo per tutte le dighe d'Italia gli stoccaggi di gas invece sono un ordine di grandezza superiore riescono a stoccare 60 teravattora invece di 6 quindi pensare di coprire il deficit invernale escludendo dai programmi dai progetti di riconversione il gas e la componente termoelettrica è illusorio quello che bisogna fare è puntare ad avere gas di sintesi di origine rinnovabile quello sì sì e quindi diciamo finisco questo no io infatti questo l'ho detto io ho semplicemente detto che non so se sei ripresente quando ho detto che di fatto non esiste una batteria che possiamo accendere una volta all'anno a parte che sarebbe parecchio insomma il fattore di utilizzo sarebbe parecchio basso direi perché sarebbe diviso uno e quindi sarebbe un problema e di conseguenza l'unica via perseguibile è questa cioè ripassare dalla chimica cioè dalla combustione con l'accortezza di utilizzare però in maniera centralizzata queste fonti e di generare energia elettrica in un mondo che dovrebbe essere poi comunque tutto elettrico quindi il concetto è questo ora io tra l'altro voglio l'occasione del fatto che tu sei collegato e sei qui ben presente a noi perché vertimice due numeri ovviamente non riesco a ricordare tutto perché vedo una mail una domanda di Enzo Tortorello dice qual è più o meno il rendimento del processo da 1 stagionale con gli idrolizzatori non mi ricordo se eravamo arrivati al 40% no noi avevamo allora il rendimento di ciclo completo cioè dall'energia elettrica prodotta dal sole in estate all'energia elettrica utilizzata all'inverno dopo che ha passato tutti i vari era più passi era il 20% noi abbiamo tenuto un 20% però ci sono studi di cui che sono usciti molto recentemente è quello di Helmholtz esatto è il centro l'istituto Helmholtz tedesco che è il principale centro di ricerca tedesco sull'energia soprattutto sulle soluzioni ambientali propone un sistema analogo per la Germania con una resa del 50% in questo caso si utilizza un tipo di turbina diversa da quelle attuali deve essere messo a punto però c'è già un impianto sperimentale che lo sta usando in Texas da 4-5 anni cioè non è qualcosa che sta solo sulla carta come ad esempio certi tipi di realizzatori ideali la cosa sta andando avanti ed è una prospettiva che sulla carta diciamo consentirebbe di rendere economicamente conveniente questa strada sì sempre chiero c'è un problema ad attivare il mito domanda cosa ne pensate di una ritiro che nasce per grid e le connessioni in hvdc con l'africa desertech sì del desertech si era parlato anche con con Luca anche noi gli esempi che abbiamo fatto come dicevo prima allora Shetour 1 ci ha insegnato una cosa sicuramente che da soli non si va da nessuna parte tra virgolette cioè se uno dovesse avere questa autarchia energetica che abbiamo in qualche modo immaginato nello studio non ce la facciamo quindi è necessario il transito più che est-ovest direi proprio nord-sud quindi sia con appunto il desertech con l'Africa sia immaginando una cosa peraltro che è stata immaginata anche in una puntata se non ricordo male di report di queste trasmissioni che per un periodo si sono occupati di energia non mi ricordo se è presa diretta un report nel quale dicevano sarebbe bello che l'Unione Europea significasse anche unione energetica quindi l'inverno anche questo è un wishful thinking se vogliamo però perché no insomma ambire e immaginare delle cose belle è sempre una bella cosa alla fine ci conduce verso il positivo immaginare che l'utente di non so la persona di Pizzocalabro accende la luce di casa grazie al vento del mare del nord no e e viceversa d'estate no che lui che a quel punto lì non c'ha più vento cioè l'abitante della di Oslo che non c'ha più vento invernale possa usare l'energia in sul plus dei paesi mediterranei per alimentare il proprio il proprio la propria casa piuttosto che che no quindi chiaro che ci vorrebbero insomma accordi internazionali ci vorrebbe insomma tutto anche una un afflato di tipo diverso però in realtà appunto se questa se questa rete europea questa super grid ci fosse ma figuriamoci noi saremmo più che contenti da questo punto di vista anche perché questo alleggerirebbe il carico di tutti no il concetto è un conto è essere da soli un conto è essere in una rete è molto più la rete da questo punto di vista anche proprio da questa proprio strettamente fisico matematico la carta c'è comunque l'unione europea sulla carta c'è quindi queste cose che stai dicendo possono avvenire assolutamente assolutamente se non ci sono altre domande io avrei una vabbè c'è una domanda in qualche modo conclusiva sì sì scusa volevo chiedere una cosa prima che tu faccia la domanda se il dottor Tribuzzi ci può scrivere sulla chat i riferimenti di quella turbina cioè la turbina di quel ciclo che porta a un rendimento di 50% ho capito male ecco perché già di per cento le turbine che ci sono combinato oggi giorno le più avanzate hanno un rendimento da sole del 62% ora quindi immaginare tutto il processo con un rendimento totale di quei livelli di anche se i tedeschi hanno appunto realizzato l'impianto pilota mi interesserebbe appunto avere qualche riferimento scritto così me lo vado a vedere imparo qualcosa grazie se posso rispondere subito il riferimento comparirà nel documento chatur 2 che sarà emesso tra pochi giorni ne parliamo in anticipo non approfondiamo la questione cioè restiamo sempre sul prudenziale 20% del primo studio quindi però diciamo che in prospettiva c'è questa possibilità di arrivare fino al 50% il dato che mettono i tedeschi è 49,8 nella loro diciamo precisione che deriva da un 60 e passa per cento della parte da gas a elettricità cioè questo ciclo è il ciclo Allam giusto per è un ciclo a CO2 supercritica cioè lo scopo del ciclo è semplicemente quello di ridurre il costo di separazione della CO2 dai fumi evitare di mettere azoto nel combustore e quindi diciamo prendere tranquillamente i fumi togliere l'acqua per condensazione e prendere la CO2 quasi pura e inviarla allo stocco e questa parte di circa 62 63% di vendimento va copiata ad un 85% di rendimento della produzione di metano di sintesi sono dati che io non ho verificato tant'è vero che appunto le nostre studi erano con un rendimento totale del 20% e non del 50% però quando li ho letti e soprattutto considerando che la fonte è molto autorevole e mi sono stupito ecco anch'io comunque questo riferimento comparirà nel documento che sarà reso pubblico di un certo ruolo di un certo ruolo di un certo ruolo si poi comunque lo segnaliamo grazie grazie mille saremo tra i primi lettori volentieri senti la riflessione era quella che nei tanti variabili che voi e altri che trattano questo argomento avete forse non l'avete trascurato la variabile antropologica naturalmente la domanda era siamo di fronte a una vera e propria nuova rivoluzione industriale è così basta capire i tempi e i modi però appunto questo e quindi sarà necessario il cambiamento la popolazione mondiale oppure italiana è disponibile è pronta al cambiamento questa è una domanda da un milione di dollari infatti te l'ho fatta apposta esatto come volevo sapere o la tua riflessione in merito perché mi sembra se fossi appunto avessi la sfera della magica risponderei allora quello che vedo io è che su questi temi in generale un po' come dicevo all'inizio c'è molta ignoranza tra virgolette nel senso buono del termine cioè la gente ignora le cose forse di questa ignoranza si sentono a dire le peggio cose cioè io ho sentito a dire cose incredibili insomma su dove bisognerebbe andare su cosa bisognerebbe fare eccetera eccetera quindi dato il panorama generale di completa anarchia tra virgolette di pensiero da questo punto di vista perché le persone poi spesso non hanno neanche le basi non so come dire no? cioè sono concetti già per chi è dentro a volte difficili da capire se non per persone estremamente specializzate ora Stefano per esempio come vedete che è l'anima tecnica di tutto questo rapporto quindi è una persona che ha sulla punta delle dita i numeri sulla punta delle dita le cose perché sono cose che lui ha fatto sempre nella vita quindi concettualmente come dire è una persona molto preparata da questo ma il problema è che anche alcune volte ha dovuto spiegarlo anche a noi cioè non so come dire che nonostante sia qualche anno che bazzichiamo cioè già che è un po' duro no? non è che sia un po' duro il problema è che non è sono concetti molto semplici da comprendere per certe cose quindi questo è per dire che cosa? che intanto ci sono questi diversi livelli di preparazione le persone poi orecchiano sentono dicono spesso la tv pubblica dove uno cerca di informarsi alcune volte fa un buon servizio altre volte meno perché aveva sentito anche lì cose più incredibili dato questo il panorama io credo che l'unico driver cioè l'unica cosa che può guidare realmente a un cambiamento è nei paesi democratici ovviamente perché se sei in Cina c'è uno che comanda e dice da oggi si fa così e tutti fanno così siccome noi non siamo in Cina siamo in una democrazia liberale in realtà se si volesse andare in questa direzione cioè nella direzione della transizione bisognerebbe cominciare a far leva sul sul mercato quindi sostanzialmente la leva è di tipo economico il driver è economico fin quando e lo dico sempre alcune volte un po' provocatoriamente fino a quando ci saranno i voli Ryanair a 20 euro vai a a Barcellona la gente andrà a 20 euro a Barcellona che ti costa più che andare da Roma a Milano col Frecciarossa quindi voglio dire le storture stanno anche in questo sistema qui dove dove l'energia ha un prezzo dove gli economisti fanno i giochi appunto e vendono due volte lo stesso libro eccetera quindi c'è un problema di questo genere l'energia costa o non costa in base a questioni di mercato quindi si possono mettere anche lì si possono immaginare futuri incredibili lo stesso Marco Giusti quando si parlava di queste cose dice vabbè ma noi possiamo anche immaginare lo diceva provocatoriamente ma nemmeno troppo che il tuo gestore dell'energia allora che il mercato dell'energia diventi un mercato addirittura a quotazione non dico oraria ma quasi ma che il tuo gestore energetico possa dirti guarda se te decidi di non fare la lavatrice oggi e la fai domani mattina io ti premio e domani te la faccio fare no te la faccio fare gratis per dire cioè meccanismi di compensazione per le quali si va in una direzione che è quella diciamo della transizione quindi è chiaro che le leve ci sono e si possono utilizzare vanno messe in piedi insomma una delle strutture attuali è che per esempio noi abbiamo una e mi rifaccio al mio caso semplicemente perché ce lo vivo è ovvio che io vivo in una condizione un po' come come lo stesso Armaroli che avete avuto ospite viviamo in una condizione privilegiata no perché comunque abbiamo abbiamo delle fortune siamo in un paese occidentale abbiamo come dire un tenore di vita relativamente alto tale da permetterci di avere una casa propria per esempio nel quale abbiamo installato nel caso mio dei semplici pannelli fotovoltaici nel caso di Nicola che invece è un perfezionista ed è uno che sa il fatto suo ha una casa in classe A A++++ con un fiammifero scalda tutto l'inverno eccetera eccetera e ha la Tesla magari o una macchina non so una qualunque macchina elettrica eccetera eccetera dico benissimo tutto questo è ottimo e va nella direzione giusta però dobbiamo immaginare una come dire una tradizione che vada fatta per tutti non solo per quelli che la possono fare perché io anch'io ho una piccola utilità elettrica per dire però e la carico con il mio pannello fotovoltaico di cui si parlava prima e la carico per il momento gratis ma arriverà il giorno in cui non la caricherò più gratis perché ci saranno delle accise perché se il mercato si sposa attraverso l'elettrico poi le strade che le asfalta perché le accise che ci sono sulla benzina servono anche ad asfaltare le strade cioè il sistema è complesso di nuovo quindi c'è tutto è tutto un meccanismo che va visto nella sua complessità di conseguenza c'è da capire quali sono i driver che possono guidare verso una certa direzione nel mondo che conosco io e qui finisco l'unico l'unico cosa che può guidare è il denaro sì d'accordo la domanda finale sei ottimista o meno come andremo a finire sono apocalottimista io sono apocalottimista cioè sono sono ottimista ma credo che bisogna passare per arrivare all'ottimismo davanti a una mezza apocalisse perché gli interessi purtroppo della classe politica di certe frange dell'economia eccetera eccetera sono tali per cui questi resisteranno fino in fondo per cercare di portare avanti il loro il loro il loro business i loro affari saranno molto difficili da scardinare poi c'è chi è più ottimista di me dice no ma tanto ci sarà un evento disrupting no? c'è queste cose per cui ci sarà che si arriverà sul punto del bar a tre quasi sicuri bene se non ci sono altre domande altre cose ti ringrazio tantissimo passo la parola a Marco grazie a voi grazie a tutti grazie Federico grazie Luciano grazie a tutti quelli che sono intervenuti e potrete trovare la registrazione di questo intervento sul canale YouTube di Equestituto grazie a tutti la pagina Facebook di Equestituto grazie grazie a tutti